Perchè non vai a dirlo a mio padre? E' la cosa che sai fare meglio. Aaron! Non ci passo! Davvero che possano esserci degli squali qui intorno? Flounder, non fai il pesce rosso. Non sono un pesce rosso. Davvero che così? Ah! Hai! Hai! Ah, oh! Grazie per la visione!